Un saluto a tutti e ben ritrovati a Revolto 125 nuovamente su Man of War a Soul Squad 2 Siamo tornati qua nei pressi di Tobruk con il nostro aeropuerto Avevamo riparato l'M4, l'M4, sì, caro medio 14 del 41 Adesso ci infiliamo dentro un po' di brutti ceffi Perché mi dà questa visuale brutta? Ah, perché sto utilizzando... Ok, allora, abbiamo tolto la pausa, vediamo qua cosa c'è Tu hai mitagliatrici o cose strane? Sì, hai delle mitagliatrici Allora, facciamo venire il semo 20 lì Vabbè, qualcuno lo dobbiamo far pure entrare, quindi vai lì Anche tu non hai nulla? No, allora tu vai lì Il... merda, dovunque dove va? No, no, dovunque Ehi, dovunque dove va Tra la 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 la, non c'è nessuno che lo sa Anche tu non hai munizioni Ehm... semo 20 viene qua Qua c'è un medico, qua c'è della fantia, qua c'è delle mitagliatrici E scusi, ma qua c'è una mitagliatrice che è dentro sto sacchetto di sabbia da... Adesso mi ha scorciato Ti distruggo il sacchetto di sabbia Tu che cazzo vuoi? Vuoi? Spara un colpo... ben piazzato lì, vediamo se riusciamo a far esplodere tutto Forse con un colpo d'alto potenziale esplosivo ce la facciamo Ola! Guarda il bel botto che abbiamo fatto lì Allora, a sto punto tu mi vieni qua dentro Visto che qua sul semo 20 sei utile come una merda Ehm... Ok, tu hai il fucilazzo quello pesante, vero? Posalo, non mi interessa il fucilazzo quello uber pesante Il caschetto te lo metti lì Vai a dare uno... No, è sparito quello, c'era un altro calibro 50 e sta sparendo Lì c'era una calibro 50 Dai veloce prima che sparisca Veloce, 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 veloce Che culo Posa un po' di munizioni, prendi un altro pacco Via, 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 che culo non è sparito No, no, non morirà Stai qua dietro Al riparo da tutto e tutti Anzi, curati Tu vuoi la calibro 50 e mi vieni qua Ok, questi meccaspini qua State giù tutti quanti Ho bisogno di ancora un tizio brutto ceffo che venga sopra Ehm, no, qua non ho un assalto Mitraillatrice Qua c'è un altro assalto Mettiamoci lui, vai Altrone qualcuno dove può far salire Ok, allora Adesso le mitraillatrici Ad esempio tu Vieni qua Tu vieni a prendere le munizioni Vieni qua Tu vieni a prendere le munizioni Ehm Tu devi avanzare Voi dovete avanzare al semovente Poiché altro è rimasto indietro Nessuno Ok, adesso avanziamo cattivi Col cario e armate Oh, è morto Oh, crew injured Morite Bisogna di un medico Medico Curami questo Ok, almeno abbiamo pulito questa zona Via, via, via Scappate Merda, c'è di nuovo fatto un crew injured Vieni qua tu Oh, avete rotto il cazzo Tu con ste granate Commando di merda Vieni via Perché non vieni via? Ah, perché c'è un sass Ok, adesso facciamo salire a bordo Il nostro amico Paolino Ok, fateli fuoco Incrociato per di più Allora Voi venite qua Voi venite qua Voi siete a posto Venite qua Faccio un medico Lo facciamo venire in questa zona Quelli l'hanno scassato Tre quarti di minchia Voi avete davvero scassato Oh, oh C'è qualcuno là che raspa Ce l'ha una mia tagliatrice Si Oh, che cazzo fa? Vai indietro Possiamo comprare nessuno Tra l'altro Non siamo ancora abilitati Allo shopping Allora, quello gli facciamo il giro Qua mettetevi insieme Toglietevi La metriatrice viene Qua Tu vai là Tu vai lì Il dovunque lo facciamo venire qua Ok, là Beh, l'abbiamo fatto fuori Oh, stiamo prendendo l'obiettivo Bene, bene, bene Strategic position Ok, abbiamo preso l'obiettivo Destroy Aspetta, pausa, pausa, pausa Non leggo The enemy is trying to fly the plane Hurry, destroy If you It will be a serious problem Dov'è l'aereo? Non lo so Ma sarà sulla pista Quindi andiamo sulla pista Tu Pausa No, è morto il tizio sopra Non mi importa Ci sarà qualcosa Metti i proiettili quelli normali Merda Ahia, un carro armato Aiuto Via dalle palle Ecco l'aereo Oddio l'aereo Fermatelo Via Show I'm it Non mi interessa Sei I'm it Distruggilo Bene Great job No Non ci distruggere È stata una mossa Molto avventata Non mostrargli il culo Vai via Vai via da qua Guarda quanta gente che c'è Enemy tank Defending the position Perché tu non spari a questo? Com'è possibile che non ci distrugga? Ok l'abbiamo distrutto noi Oddio c'è un carro armato nemico Non so dove Si è bloccata la telecamera Porco schifo Ok meglio Oh cazzo È un Cromwell No non è un Cromwell Sparagli nel culo Vedo c'è anche un Lila Oddio Traccalo Traccalo Oddio Esploso Merda Qua qualcosa è cascato Ma non so cosa Mi segna che abbiamo delle cose Qua ma non abbiamo nulla No perché No perché Sto carro è Gesù Sto carro mi sembra Gesù Mi ha portato lì dove c'è la nostra fanteria Veloci Oh l'ho perforato forse Ma il cazzo Non gli faccio una fava Dammi gli APCR Oh bene 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 Uno fuori One down One down Oddio Medic help me No medic non possiamo Merda il Matilda Spara quello con l'ultimo APCR Ok quello forse L'abbiamo fermato Abbiamo finito gli APCR Via da lì Abbiamo un armor Caro medio Caro medio One unit tank 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 Lui Lui Qua Ok Amica dobbiamo difenderci qua Eh Reenforcement has arrived Madonna che casino Oddio è esploso tutto Anybody help me Io non ho mai visto un carro italiano Che spinge così tanti colpi Oh uno è morto È morto lì È morto lì Oh gli ha tirato un calcio Gli ha tirato Merda non ho manco più colpi Dove è l'altro Eccolo 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 Minchia cattivissimo Cattivissimo No main turret Era troppo cattivo Era troppo cattivo Eh lo so amico mio ma Qua non è che possiamo fare molto Difendete Ho finito i colpi per questo Merda Adesso sono cazzo Cioè penso che almeno questo Dovrebbe darmi il semo 20 Dai Espreso fosse esploso qualcosa Invece no Medic help me No medic Non possiamo aiutare proprio nessuno Al momento Non abbiamo più colpi Veloce spara Di alla granata L'unica speranza è la granata Tiragliala Non gli ha fatto nulla Oddio Ok l'unica adesso è di nuovo lui La nostra speranza La nostra grande speranza Oh Forse ha preso fuoco No merda Si ha preso fuoco Ha preso fuoco Abandon tank Brucino Grandissimo Sei un eroe della patria Siete tutti eroi Adesso non appena Questo cane non ha più munizione Ma può benissimo Sparare Madonna che casino è stato sto pezzo Ok tu vai a sopprimere la fanteria Ok stanno facendo fuoco Come se non ci fosse un domani Tu Mi serve a sto punto Cos'altro possiamo comprarci? Zero unit Zero di tutto Non possiamo comprare nulla Bene Forse dobbiamo prendere prima questo punto Adesso lo prendiamo Poi c'è uno che non ha un fucile E' un Lee Anfield però Non voglio Lee Anfield Oh C'è una metagliatrice però lì Anzi allora a sto punto sali qua sopra Così da utilizzare la metagliatrice del Del coso Ok quelli stanno riparando Tu vienimi qua Ok qua è tutto a posto Abbiamo poca fanteria Perché ci sono morti parecchi uomini Ma un po' dovremmo riuscire a recuperarli Adesso Stato Stato devastante devo essere sincero Non me l'aspettavo C'è quello là che col Piat E' un praspa Ok veicolo riparato Perfetto Venite sulla pista Mi piacerebbe molto se Sapere se queste munizioni qua Vanno in questo qua No Prendi le prova a mettere Ma non penso che vadano Mi sembravano diverse Fatti Maledizione Ecco non dovevi rompere quella Ah là c'è un carro che funziona ancora Metti la PCR Occhio a far starli così vicino Ok stiamo prendendo l'obiettivo Così possiamo chiamare qualche rinforzo Tu vai a prendere quella Mietra elettrice che esce là Ok Non mi piacerebbe avere un po' di fanteria extra Venite qua Ok posa sto fucilazzo di merda Il Soltron Perché non me lo fai posare Ok Fai che posare No vabbè è così Perché hai un po' pochi colpi Posa qualche Molotov Perché tanto Molotov Se fai il mitragliere Non ne hai bisogno Ok Ops Tu perché non ti stai muovendo? Ah perché non hai benzina Ha finito la benzina questo Oddio Adesso dobbiamo fare una cosa Che non mi fa No tu sei quel lentissimo Dobbiamo fargli la benza Ma dimmi te se dobbiamo fargli benzina Allora Butta per terra la tanica Prendi la tanica O prendila Travasagliela Travasagliela Dobbiamo fargli fare la benza Fai la benza Fai la benza Oh Meno male che non è stato ferito Dovrebbe avere una tanica anche lui da dentro C'è quella cazzo di metallatrice qua Che rompe le palle Questa è vuota Questa è piena Buttala lì Prendila Senti avvicinati davanti Oh è morto Onofrio Oh madonna Quanta fantaglia che c'è No no le cartucce non sono finite Mi fa non essere morto quello Mo ti faccio crollare la casa Mo ti faccio crollare tutto Oh All destroyed Merda secca Dobbiamo proprio Proprio se rubagli le munizioni Merda Non pensavo riusci a tirermi la granata Pensavo morisse prima Ok dobbiamo Prima che esploda in un Cumulo di macerie Anzi vediamo se riesco a fare una cosa Ovvero con questo fare Si riesco Perfetto Ok abbiamo il carruber Esperto adesso Di nuovo operativo Eh madonna fa quanta gente che c'è da E dov'è sto tizio Ah è dentro la casa addirittura E' là dentro Guarda sto infame Ok sono morti in due Minchia ce ne erano due lì nascosti come delle merda Vai a curare quello Guarda tu per caso se le munizioni che ha lui Ti piacciono Secondo me queste sono le stesse Queste sono da AP47 37 37 Che sfiga Eh no E mo basta eh Oh non può salire Oddio ha dei problemi È ritardato Perchè non lo cure Curalo Ma vieni via Ok abbiamo eliminato la metagliatrice Da quello è un passo avanti Allora c'è tanta gente Però tu ad esempio non stai sparando Ma hai finito i colpi Quindi vieni qua Bruccia Metagliatrice C'è la metagliatrice Mettiti qua Ah l'ho tol cazzo Questo Ah l'ho tol cazzo Ah l'ho tol tre quarti di minchia Ok Uff Fatica C'è davvero tanta gente Dobbiamo Dove è il prossimo punto Da conquistare tra l'altro Il prossimo punto È qua giù Eh Dobbiamo tenerci buono Questo caramato Uber veterano Perchè Però magari Sì Riparatevi questo Subito Ok Ok Se qualcuno le spara Anche da laggiù Questa è una zona di merda Guarda come sono campeati Vabbè Ok Via muoi Ok Devo fare un resupply qua però eh Perché ho di nuovo finito la benza Ho di nuovo finito la benza Di questo carro No no Dove sta andando Guardate se qua c'è della benza Qua c'è una tanica Ok Qua c'è una tanica Ma è vuota Non so se è vuota Beh proviamo Io c'è un sacco di granate Allora Tu Inventare Butti la tanica a terra E la pigli E supply Tu fai uguale Butti la tanica a terra E empty Porca troia Ok Ok un po' di benza Gliel'abbiamo fatta Non tantissima E guarda se per caso In questa macchina Ce n'è E poi concludiamo L'episodio qua Il prossimo episodio Faccio riparare Nel frattempo Si c'è una C'è anche la metagliatrice Qua guarda Ok Facciamo la benza Ok Ho bisogno di benza Ad esempio anche voi Guarda se per caso Qua dentro Oltre al marasma Di metagliatrice Ok Ah li ordini Ok butta La benzina a terra E tu adesso Fai benzina No Sta andando Non era lui Chi è lo stronzo Ha preso la benzina Lui Ok facciamo avanzare Anche il dovunque Lo mettiamo Qua Lui qua Non ha nulla Dovremmo forse fargli Ah tu devi andare da Tu sarai uno Che entrerà dentro il camion Ok butta via la benzina Ok butta via la benzina E rifucilla Tu fai che prendo invece la metagliatrice Ok butta via il tuo fucile Prendi la mitra Ok E vieni qua Ok ok va molto bene A parte il fatto che Allora Voi a sto punto Venite qua Abbiamo un sacco di metagliatrice Back to menu Infant unit Potrei prendermi Un flamethrower No prendiamo Un'altra fanteria Ok Ok abbiamo eliminato Ogni resistenza In questa zona Ok il medicus Può venire qua Questo è riparabile Non penso proprio Infatti No Quella è riparabile Ok Reinforcements Ha arrivato C'è qualcuno Che è rimasto indietro Ed è una metagliatrice Per di più pesante Vorrei riuscire A farlo arrivare qua Sì signore Oh abbiamo riparato Il lì Bene Sì signore Ok Ho bisogno di più uomini Addirittura Da metterci lì dentro Adesso che arrivano gli altri Li faccio entrare Appena arrivano Concludiamo l'episodio Faccio entrare la gente E poi il prossimo episodio Avanziamo Tu hai fatto Benz Sono contento per te Tu quanta benzina Tu sei pieno Guarda se c'ha Della benzina Oh yes Che ce l'ha Oh yes Che ce l'ha Poi vedremo anche gli obiettivi Questa è una tanica vuota E buttala a terra Questa è un'altra tanica E la butti a terra Perché non te la fa prendere? Ok Fai un bel refuel Ok Sono arrivati Tanti italiani Valorosi Che li facciamo entrare Dentro il car Armato Americanen Peccato per il Ok Praticamente Li abbiamo Rifullato La Benza Lui Tu adesso Puoi buttare Per terra Questo Ok Questo è pieno Occhio a non uccidermi il tizio qua Sì signore Sì signore C'era la metà La tizio qua Che era davvero fastidiosa Adesso non mi ricordo male C'è della gente qua Testiamo subito lì Come se la cava Con i suoi 75 mm Di potenza Che stanno facendo fuori tutto Destrui Motherfucker Ops Là c'è un anticarro Anche se l'abbiamo distrutto Prima Adesso l'abbiamo distrutto Completamente Ok Per questo episodio è tutto Stiamo avanzando lentamente Molto lentamente Purtroppo abbiamo perso un car Ma fa lo stesso Stiamo avanzando È stato un episodio Boom 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 Io vi ringrazio per l'attenzione Un saluto alla prossima Ciao ciao